Durace è l'azienda di batterie numero uno al mondo per quattro di mercato ed è il leader nella produzione di batterie alcaline ad alte prestazioni specialistiche e ricaricabili. Dal 2016 è parte del gruppo Berkshire Hathaway e in questo momento ci troviamo nella sedia di Roma che è il quartier generale per i mercati del sud Europa, Portogallo, Spagna, Italia e Grecia. Durace è una lunga storia di innovazione, è stata la prima batteria doppia e tripla della storia, la prima ad essere utilizzata all'interno di apparecchi acustici e nel 69 ha partecipato alla missione dell'Apollo 11 diventando la prima batteria ad andare sulla Luna. Sempre grazie all'innovazione abbiamo aperto un nuovo capitolo verso la sostenibilità che si fonda su quattro importanti pilastri, il prodotto, il pacco, il riciclo e la produzione. Da sempre l'ecodesign del packaging è stato al centro della nostra innovazione. Dagli anni 90 Duracell è stato il primo produttore di batterie ad introdurre sul mercato un pacco a forma di cappa completamente in cartone, il cosiddetto key pack, senza le valve in plastica. Questo ha consentito di eliminare 6.000 tonnellate di plastica dall'ambiente. Inoltre negli ultimi 10 anni abbiamo portato la riciclabilità dei nostri pacchi al 100% ed abbiamo aumentato il contenuto di materiale riciclato a più del 90%. Il nostro continuo impegno verso la sostenibilità è stato spesso riconosciuto da Conai negli ultimi anni. Nell'ultimo bando 2022 siamo stati infatti premiati un'altra volta per la conversione dei pacchi, questa volta delle 9 volt, da un pacco in cartone e plastica a un pacco totalmente in cartone riciclato. Inoltre con questo nuovo design siamo riusciti ad effettuare l'interlocking tra diversi pacchi all'interno degli ballaggi secondari e questo ci ha consentito di trasportare più unità all'interno dello stesso volume risparmiando in CO2 nell'ambiente. La circolarità delle batterie è chiaramente un altro punto fondamentale della nostra strategia per la sostenibilità. Forse non tutti sanno che le pile esauste hanno ancora un altissimo valore e per questo è fondamentale il loro corretto smaltimento da parte del consumatore. Duracell è impegnata continuamente a sensibilizzare i consumatori a raccogliere e portare le pile esauste presso le isole ecologiche o i centri di raccolta nella distribuzione. Grazie alla collaborazione con gli attori della filiera riusciamo a riciclare in Italia più dell'85% delle materie prime derivanti dalle pile esauste recuperando materie prime preziose come ferro, carta, plastica, zinco e manganese che vengono poi così riutilizzate nella costruzione di strade e nella produzione di acciaio, zinco, rame e fertilizzanti. Noi siamo Duracell, siamo il leader di mercato e continueremo a investire in sostenibilità, continueremo a investire in ricerca e sviluppo per migliorare la performance dei nostri prodotti e diminuire gli sprechi e i rifiuti. Continueremo ad innovare per ridurre il consumo della plastica e convertire l'intera line up a 100% plastic free. Il nostro obiettivo è anche quello di aumentare considerevolmente il materiale riciclato all'interno delle nostre batterie. La nostra vision per il futuro è quella di ottenere una catena del valore completamente net zero.